Nel cuore dell'Appennino Ligure un angolo di paradiso dove si uniscono natura e tradizioni a due passi dal mare sono le valli dell'Antola fra Liguria Piemonte ed Emilia dove nascono il torrente Scrivia e il fiume Trebbia ricchi di acque fresche e pulite famose per la loro pescosità e meta di pescatori da tutta Italia le valli sono parte del parco naturale dell'Antola dove coesistono l'antico mondo contadino con le sue memorie e tradizioni secolari e un'incredibile varietà di flora e di fauna daini caprioli il parco è percorso da centinaia di chilometri di sentieri fra boschi e valli su su fino ai pascoli e ai crinali dei monti da cui si godono panorami infiniti che spaziano dalla Corsica fino alle Alpi occidentali e centrali dominate dalle moli del Monviso e del Monte Rosa il cielo trasparente le notti stellate in una delle zone d'Italia con minore inquinamento luminoso è stato realizzato un osservatorio astronomico d'avanguardia aperto tutto l'anno nelle valli dell'Antola si trovano paesi abbandonati nei quali sembra che il tempo si sia fermato a cento anni fa e le case sono lì ancora aperte con le loro suppellettivi ma si trovano anche una rete di alberghi bed and breakfast agriturismo rifugi di montagna fra i prodotti tipici delle valli lo sciroppo di rose i dolci canestrelli salumi formaggi le famose patate quarantine squisite carni di animali che vivono quasi tutto l'anno bradi sui pascoli di montagna un miele dolcissimo e purissimo di funghi per chi ama lo sport c'è la possibilità di praticare il cicloturismo la mountain bike il turismo a cavallo l'orienteering la pesca sportiva il canoing il parapendio o il deltaplano e infine la memoria del passato con famosi e suggestivi presepi e gli antichi castelli lungo la via del sale per chi ama lo sport c'è la possibilità di fare molto bene e anche se ti avvicini per farlo non c'è la possibilità di fare molto bene ma lo sport c'è la possibilità di fare molto bene ma lo sport c'è la possibilità di fare molto bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.